Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti nel mio canale, io sono Maglus Riprendiamo sempre qui con Batman Tuttles del Serious Il secondo episodio Porca paletta, ci troviamo faccia a faccia con Falcone All'improvviso è entrata la polizia Una scena sensazionale Anche perché dobbiamo sapere più notizie su chi ha ammazzato i nostri genitori D'accordo a mettere come se vedete i video come sempre a mettere un po' di like E poi c'è il zoom per commento, un più mi piace Andiamo avanti, vai! Che siga Eh, dillo forte È infatti È infatti È infatti E allora mi sa che non si salva qualcuno È già morto Ma anche se è vero Il senso è vero è che lei ha scendato il corpo in casa Il senso Lieutenant, eh, eh, Mr. District Attorney Uh, Falcone's lawyers are here Oh, Christ Oh, yeah I can delay them for a little while But we still need answers Tell me if she says anything I have to know why she did this Oh, yeah Oh, yeah Alfred Ok Quindi mi sa che il Falcone è andato Perché giustamente il colpo è in faccia Come si poteva salvare Ok, quindi l'iniezione gliel'hanno fatta Che gli ha dato un bacio in bocca No Infatti sembrava bruttina come poliziotto Che ci faceva l'arte a panza Grazie Eh, l'hai sparato I believe you were drugged, Sargent I... It would explain a lot Listen You have to believe me I talked big about hurting thugs like Falcone But I would never, never betray the lieutenant Everything is so foggy I remember a sharp pain There's an injection site on your neck Then I just felt light Like I could do whatever I wanted No guilt No consequence Eh There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off And all I knew was that I had to stop that I had to No matter what The reasons why I should've They were a million miles away Did you see a face? Could you ID a suspect? I don't think so You must remember some detail Try I remember a hand on my arm Guiding me Like a parent with a child The voice It was saying something about revolution Cobblepot said something similar Oh, it's true I'm so sorry, lieutenant I'm sorry, lieutenant We stole the lawyers for now But they'll be back How is she? Did she tell you anything? Yeah, don't worry about that now Hmm Montoya remembers being drugged It was out of my mind, lieutenant Please believe me Hey Get forensics in here Now She remembers a voice saying something about revolution That's not much to go on That's not much to go on Now You're bringing forensics in Let's get Bruce out Alfred, I got my next man I can lead on whoever's behind this Bruce What are you doing here? My friends in the... In the GCPD have been telling stories About some kind of lockdown Hmm The press can't seem to leave me alone Yeah, well, I don't know what to tell you Maybe it's your cologne Word is, there were shots fired Near where Falcone was being held Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened Where did you get that? So it's true? No, I didn't say that Listen, I owe you for those files on Falcone I got a lot of credit the gazette for that story Whatever's going on here You can't afford to be associated with it Let me help you I can keep your name out of whatever we print But you need to give me something I can use Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off That something happened Just give me something to run with Non ti diamo niente, bellezza Please, get out of my way, Vicky I'm in a hurry Disappointing Maybe you have more to do with this than I thought Oh, ma questa è un osso duro, eh Non ci dà tregua Beh, certo, Bruce ha il suo fascino E piace alle donne E quindi è normale che lei subisce questa influenza Forse all'inizio ho detto che Falcone era stato ammazzato Ma secondo me... Ho sbagliato Bella macchina Attenzione che si sfascia la coppa dell'olio lì Che vedi dal garage Che vedi dal garage Now is that Rhetorica Non ti è simile con i nervi che ho trovato con i doc'si. E' vero come si è vero. spero che ti ha detto qualcosa prima che si è morto manco per niente cosa hai aprendo da lui? solo si concentrano sulla mano perfetto, Master Bruce ma se hai aprendo qualcosa sui bambini mi devo sapere non ti scaldare sì, ma credo che questo rende senso il tuo padre, Hill e Falcone avrebbero sbagliato l'altro i computer hanno pinpointato i punti di referenza sui due compound ah, ok quindi il suo computer serve da qualcosa ok, quindi abbiamo sia questo qua, campione del porto e campione di Montoya quindi che facciamo? guardiamo quello di Montoya è come un ufficio solo ha fatto una piccola injezione per sbagliare Montoya dei suoi filtri morali e farlo agire sulle impulsi basi ok, mentre invece questo il campione del porto era daosso con le chimiche basi la reazione era messa erano senza controllo e quindi sono la stessa cosa praticamente penso no? mi sa proprio di si Bruce ma sono si 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 ma sono riusciti a perdere. Quali che ha processato, sapevano quello che stavano. Cosa potrebbe poter creare di questo tipo di droga? L'arrivo la guerra è una cosa, ma... ...draggare altri per l'arrivo per te? Per quanto riguarda, Montoya è ancora un caso isolato. Voi droni sono in posizione per triangolare il locale di Cobblepot. Ah, questa cosa mi fa impazzire. Ok, quindi ci conviene girare come al solito per cercare di beccare queste situazioni. Allora, aspetta un attimo, perché prima ero riuscito a becchiarli, però devo capire, prima si andava di qua o di qua. Allora, iniziamo da questa zona. Mi sa che non ci sta niente qua. Dobbiamo fare una ricerca migliore. Aspetta... No, e qua pure non c'è niente. Mi sa che qua forse abbiamo trovato qualcosa, aspetta. Forse è qua? Ok, penso abbiamo trovato qualcosa. Ok, selezioniamo un altro Dune, perfetto. Quindi a questo punto qua abbiamo trovato qualcosa. Proviamo un po' qua e vediamo. Facciamo la solita ricerchina. No, è di qua. Aspetta. Ok, è qua. C'è una leggera interferenza. Però anche qua abbiamo trovato qualcosa, quindi perfetto. A questo punto ci dirigiamo da quest'altra parte. E proviamo a cercare se anche qua c'è qualche cosa che ci può interessare. Non si muove molto bene, però... Vabbè, giustamente questo dovrebbe essere guidato da... Qua, qua. Ok. Vabbè dai, i droni si sono comportati abbastanza bene. È triangolare. Perfetto. Vabbè. Vabbè, vado là. Aspetta, piano piano eh. Piano piano. E scansioniamo. Piano piano. Ok. Oh! Non avevamo dubbi che fosse lui. Piano piano piano. Piano piano. Piano piano. Bye, bye, bye.